E a Fano è giovedì grasso anche a teatro, va in scena l'opera buffa di Donizetti Le convenienze e le inconvenienze teatrali, diretta da Vito Clemente Il nuovo spettacolo della rassegna lirica Torelliana sarà replicato sabato con ballo in maschera A seguire, noi abbiamo seguito l'anteprima, vediamo Si tratta di uno spettacolo ad alto tasso di divertimento, con punte di assoluta comicità grazie alla fiatata compagnia di cantanti e attori Basti pensare all'esilarante balletto che vede impegnato sulle punte il baritono Paolo Bordogna tra i protagonisti nel ruolo antravestì di Mamma Agata un numero mai pensato da Donizetti e inserito nelle convenienze ed inconvenienze teatrali la nuova produzione del Teatro della Fortuna per la rassegna lirica Torelliana e non è l'unica novità della rilettura che Roberto Recchia, regista allo stesso Bordogna offrono dell'opera buffa di Gaetano Donizetti L'edizione critica che ci è stata consegnata è decisamente un materiale che viene consegnato proprio per poter essere rimontato secondo i propri gusti questa è un'opera di interpreti prima ancora che di registi e quindi se non si hanno degli interpreti del calibro almeno di quelli che abbiamo noi e vedrete sono strepitosi, non si va da nessuna parte Nel tumultuoso gioco di travestimenti, recitativi ridotti a battute, danze e ironici riferimenti all'hotello rossegnano si distingue Paolo Bordogna, una sorta di bracchetti della lirica Abbiamo in tutto 5 cambi abito il primo cambio è di 40 secondi ed è un cambio completo di abito, gioielli, scarpe dentro le quinte succede il finimondo, però ce la facciamo Opera nell'opera, visto che Donizetti si diverte a mettere alla berlina l'ambiente del melodramma d'inizio ottocento attraversato da invidieri, picche e dispetti ma il mondo della lirica oggi è tanto diverso? Donata ad Annunzio Lombardi è l'agile soprano che debutta nel ruolo di Daria, la prima donna è rimasto questo senso del capriccio, della nevrosi che è anche da comprendere perché il cantante fa un lavoro psicofisico veramente incredibile però, aggiungo, questa è un'occasione anche interessante per guardarci un po' con una certa distanza e sorridere anche di noi stessi